L'ultimo colpo di coda di questo freddo inverno porta con sé l'ennesimo bollettino dell'influenza, questa volta a spaventare la natura particolarmente acuta della stessa, che ha portato fino ad oggi 240 padovani a rivolgersi al pronto soccorso ed essere, dopo una prima visita, ricoverati. Numeri impressionanti se confrontati con quelli dello scorso anno, quando ad essere ricoverati per influenza sono stati soltanto un centinaio. L'epidemia continua a espandersi in città, il pic atteso per questa settimana, il tasso di incidenza dell'influenza in Veneto è aumentato dal suo inizio, ha già messo a letto 195.000 persone, delle quali 45.000 sono nell'ultima settimana. A Padova, ad oggi, per virus H3N2, sono morti quattro anziani. L'influenza ha peggiorato le loro condizioni, tutti erano già affetti da malattie croniche. In tutto, i recessi tra Padova e provincia sono stati sei. Secondo l'ultimo rapporto epidemiologico, elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, i bambini rimangono comunque i bersagli preferiti dal virus influenzale. Nella pediatria dell'azienda ospedaliera sono stati ricoverati 20 piccoli per complicanze da influenza. Fortunatamente nessun caso si è rivelato particolarmente critico o preoccupante.